Ciao, benvenuto alla quarta lezione del mio corso di tedesco livello base. Oggi vedremo insieme un testo completo. Lo so che può sembrare un po' prematuro alla quarta lezione, ma credimi, andrò molto molto piano e vedremo insieme ogni singola parola. L'unico piccolissimo compito che ti do da fare prima di vedere questo video è di vederne un altro. Ti chiedo infatti di andare a cercare sul mio canale il video dove illustro gli articoli determinativi. Ti sarà utile per capire meglio questo testo. Mi raccomando, fallo, non dura nemmeno dieci minuti. Ti metto il link qui sopra e anche nell'info box. Nell'info box, ovvero la descrizione di questo video, conterrà anche il link a un altro video di una lezione completa di livello A1 di qualche mese fa, dove ho fatto praticamente ciò che faremo oggi, ovvero ho analizzato un testo più o meno simile a quello che vedremo tra poco. Ecco, ti consiglio, se non l'hai già visto, dopo che avrai terminato questa lezione 4, di andare a vedere anche quel video per fare un pochino di esercizio. Bene, direi che possiamo cominciare. Non spaventarti quando vedrai la lunghezza del testo. Eccolo qui. Come ti dicevo, non spaventarti, perché grazie alle cose che hai imparato nelle prime tre lezioni, grazie a delle cose che sicuramente conosci, perché ci sono parole molto simili all'italiano e all'inglese, e con il mio aiuto vedrai che riuscirai a comprendere tutto. La prima parola, ricordi l'h, si sente, hallo, significa ciao. Vediamo di questa frase le parole che conosciamo o che possiamo già intuire. Adesso, questa assomiglia all'inglese, name, e anche all'italiano, quindi direi che è abbastanza intuibile che si tratta della parola nome. Però, essendo in tedesco, non si legge name, ma si legge name. Se hai visto il mio video sugli articoli, saprai che i sostantivi, i nomi in tedesco, hanno tre generi, maschile, femminile e neutro. Con il maschile si usa l'articolo der, con il femminile si usa l'articolo di, con il neutro si usa l'articolo das. In questo caso, ti dico io che l'articolo di name è der, maschile, come in italiano il nome, quindi non è un grosso problema. Vediamo altre parole che conosciamo già. Ist lo conosciamo già, perché il verbo essere è la terza persona, quindi è, questo è il nome della ragazza, Lina Meyer, ich lo conosciamo, significa io, bin, prima persona singolare del verbo sein, del verbo essere, quindi io sono, ricordi, prima l'unità, poi la decina, quattro dieci, vierzehn, jare, jare, e questo alt, che ci ricorda old. Questa frase la conosciamo già. Non è io sono quattordici anni vecchio, ma è io ho quattordici anni. Anche questo und lo conosciamo già, che assomiglia a and, e significa e. Qui abbiamo un verbo. Il verbo è common, assomiglia all'inglese, e significa vengo, o come in questo caso provengo. Vengo, provengo. Allora, ti ricordi come abbiamo declinato i verbi nella lezione precedente? L'infinito è kommen, tolgo e n, also ich komme, significa vengo. Aus è una preposizione, e in questa frase significa da, da nel senso di provenienza. Torniamo un attimo qui all'inizio. Österreich, 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 te lo dico io, significa Austria. Aus, abbiamo visto, significa da, e questa parola l'abbiamo vista la prima lezione, quando ti ho spiegato l'alfabeto, e significa Vienna, Wien. Ricordi? I, E si allunga la I. Also, Aus, Wien. Torniamo all'inizio, ho lasciato questa parola, che è piuttosto semplice, per ultima, perché gli aggettivi sono piuttosto particolari in tedesco, in questo caso è un aggettivo possessivo, e significa Mio. Allora, l'articolo di name, ti ho detto prima, è there, quindi in questo caso, essendo un soggetto, perché il mio nome è, si declina così. Ovviamente gli aggettivi li vedremo un po' più avanti, perché è un discorso piuttosto complesso. Also, mine, name, assomiglia all'inglese, quando tu dici my name is, mentre in italiano il mio nome è, quindi come l'inglese non metti l'articolo determinativo davanti, è sufficiente l'aggettivo possessivo. Quindi, ciao, in italiano diremmo il mio nome, qui il non c'è, mio nome è Lena Meyer, io ho quattordici anni, e vengo, noi in italiano diremmo dall'Austria, dall'Austria, virgola, perché in particolare, da Vienna. Wien ist eine metropole, metropole, mit, circa, allora, ricominciamo, Vienna ist, è, metropole, assomiglia all'italiano, quindi è una metropoli, fai caso a una cosa, allora, Austria e Vienna, Lena e Meyer sono nomi propri, però, nome, anni, metropoli, sono scritti con la lettera maiuscola, perché? Perché in tedesco, tutti i sostantivi, ovvero tutti i nomi, vanno scritti con la lettera maiuscola, non farlo è un errore. Questo, AINI, è un articolo indeterminativo, una, anche la declinazione dell'articolo indeterminativo, richiede una spiegazione. Quindi, l'articolo di metropole è di, femminile, quindi è, AINI, Vienna è una metropoli, questa non lo conosci, MIT è una preposizione e significa, CON. Questa parola è scritta come in italiano, CIRCA, ma si legge, CIRCA, CIRCA, il significato è lo stesso che in italiano, quindi con CIRCA, ZWAI, DUE, MILIONEN, MILIONI, MENCHEN, MENCHEN, questa parola significa, PERSONE, Vienna è una metropoli, con circa, DUE milioni, in italiano diremo, DI, PERSONE, ICH LIBE BIN, IO, questo verbo assomiglia all'inglese, TO LOVE, IO AMO, anche qui, prima persona singolare, io amo, ICH LIBE BIN, IO AMO, Vienna, MEINE HOBBIES SIN'T, ALSO, conosciamo questa parola perché è, HOBBI in italiano, in tedesco, al plurale si dice, HOBBIES, HOBBIES, se hai visto il mio video sugli articoli, saprai che il plurale, al nominativo dei sostantivi, quindi quando un nome è soggetto, è sempre con l'articolo DI, quindi, MAINE HOBBIES, I MIEI, stessa cosa di MAINE NAME, non mettiamo l'articolo determinativo davanti, quindi, I MIEI HOBBI, ma solamente MIEI HOBBI, I MIEI HOBBI, conosciamo SIN'T, quindi significa SONO, I MIEI HOBBI sono, VIDEO GAMES, questa parola è facilmente intuibile, attenzione che non si pronuncia MUSIC, ma MUSIC, MUSIC, in questo caso, Lina mette tra parentesi, il nome del suo gruppo preferito, Tokyo Hotel, che è il nome del gruppo, IST, MAINE, E, allora, perché c'è MAINE? Perché c'è la parola, GUPE, GUPE, GUPE significa GRUPPO, però, attenzione, in italiano è IL GRUPPO, MASCHILE, in tedesco è DI GUPE, FEMMINILE, questa è una di quelle parole in cui il genere non corrisponde in italiano e in tedesco, quindi, va ricordata molto bene, questo Lieblings davanti significa preferito, mettendo Lieblings davanti a qualcosa, in tedesco è per dire il mio preferito, in questo caso, Lieblings CUPÉ è il mio gruppo preferito, I TOCHIOTEL, TOCHIOTEL, il nome del gruppo è, di nuovo, stessa cosa, non c'è il davanti, il mio, lo so che io dico mio, e qui vedi MAINE che è femminile, ma ti ho spiegato che non c'è corrispondenza perché GUPE è femminile, quindi, è il mio gruppo preferito, SIE SIN'T COOL, LORO SONO, allora, diciamo, traduciamolo con FANTASTICI, dai, LORO SONO FANTASTICI, andiamo avanti con gli hobby di Lina, also, CHATTEN, CHATTARE, UN SHOPPEN, allora, tu potresti dirmi, allora ovviamente CHATTARE è fare SHOPPING, tu potresti dirmi, però questi due sono due verbi, perché sono scritti in maiuscolo, se prima hai detto che sono solo i sostantivi a essere scritti in maiuscolo, perché in questo caso sono dei verbi che sono diventati dei sostantivi, per esempio, mi piace il chiacchierare, il chattare e, in italiano, l'andare a fare SHOPPING, il fare SHOPPING, è come se fossero diventati dei sostantivi, dai che siamo già a metà, also, MEIN SPORT IST TENNIS, qui è facilissimo, IL MIO, quindi mio, IL MIO SPORT, E, IL TENNIS, ABER, questo ABER significa, MA, o MA, o PERÒ, MA, ICH FINDE AUCH FUSPALL INTERESSANT, ICH FINDE, questo FINDEN, significa, trovare, nel senso di, ritenere qualcosa, interessante, perché questo, è l'aggettivo, e, assomiglia tantissimo all'italiano, ovviamente, quindi, io trovo interessante, il verbo è, FINDEN, prima persona singolare, in questo caso, TROVO, ma, io trovo, interessante, AUCH, AUCH significa, ANCHE, FUSBALL, FUSBALL, FUTBALL, E, IL CALCIO, quindi, IL MIO SPORT, E, IL TENNIS, MA, in italiano diremo, senza, IL PRONOME, MA, TROVO INTERESSANTE, ANCHE, IL CALCIO, FC Bayern, IST, DI BESTE MANNSCHAFT, Quindi, qui, la parola più difficile, direi che è, MANNSCHAFT, MANNSCHAFT, significa, SQUADRA, L'articolo, DI MANNSCHAFT, E' FEMMINILE, E' DI, MANNSCHAFT, BESTE MANNSCHAFT, IL BAYERN, E, questa assomiglia tantissimo all'inglese, THE BEST, quindi, E' LA, in italiano diremmo, SQUADRA, MIGLIORE, quindi, TI FA PER IL BAYERN, nonostante sia austriaca, E non, non viene dalla Baviera, Bene, come sta andando finora? Direi che a parte qualche parola un po' difficile come MANNSCHAFT, LIEBLINGS, DMANSCHEN, non ci sono parole così strane. Andiamo avanti. MEINE FREUNTE SIND SYMPATISCH. Attenzione a questa parola perché, assomiglia all'italiano ovviamente significa simpatico, simpatici, però si pronuncia Ü, SYMPAT, e poi c'è un TH, ok? Quindi attenzione, quando devi scriverla ricordati bene come è scritta. MEINE, I MIEI, questi FREUNTE sono gli amici. Plurale, quindi il plurale è DI, MEINE FREUNTE SIND SYMPATISCH UNT INTELLIGENT. I MIEI AMICI FREUNTE SIND sono SIMPATICI e INTELLIGENTI. Due punti. E qui ti faccio notare una cosa. Allora, MEINE, questo aggettivo possessivo, normalmente si dovrebbe scrivere in minuscolo, come qui, vedi? Perché è un aggettivo. finora l'abbiamo trovato sempre in maiuscolo, perché era all'inizio di una frase, dopo il punto. Anche dopo i due punti, attenzione a questa cosa, in tedesco si scrive, qualsiasi cosa venga dopo, con la lettera maiuscola, cosa che ovviamente in italiano non si fa. Quindi dopo i due punti, lettera maiuscola, che sia un aggettivo, un nome per forza, però, non so, un verbo, una preposizione, sempre lettera maiuscola. MEINE BESTE FREUNDIN IST SABINE. SIE IST SUPER. Also, questa parola, freundin, significa amica, femmina. L'articolo è DI. Also, MEINE, LA MIA, BESTE, migliore, freundin, amica, è Sabine. Lei è fantastica. SIE IST SUPER. Lei è fantastica, è super. MEINE SCHULE IST DAS SCHILLER GYMNASIUM. LA MIA SCUOLA, SCHULE, SCUOLA, DI SCHULE, E, E, DAS GYMNASIUM, QUINDI E, DAS, E, IL, in italiano, perché in italiano è il ginnasio, E, il ginnasio, SCHILLER. Vediamo una parola un pochino difficile. DER UNTERRICHT, IST INTERESSANT, NUER BIOLOGIE, IST NICHT OK. Also, UNTERRICHT, SIGNIFICA, LEZIONE. Questa è un'altra cosa da ricordare. In italiano è LA LEZIONE, in tedesco è DER UNTERRICHT, DER MASCHILE. LA LEZIONE E' INTERESSANTE, NUER, NUER significa SOLO. BIOLOGIE, chiaramente, SOLO BIOLOGIA, qui diciamo un slang giovanile, NON E, NICHT significa NON, NICHT, NON E' OK, quindi non, solo BIOLOGIA, non mi piace. Le lezioni sono interessanti, ma BIOLOGIA, non mi piace. Bene, dai che ce l'abbiamo fatta. Ora vediamo l'ultima frase, così ti mostro una particolarità. Quando si pone una domanda, in tedesco si mette prima il verbo e poi il pronome. Come in questo caso, tu sai che WIST significa SEI, also WIST, DU, SEI, BAI, BEI, legge AI, BAI è una preposizione che letteralmente significa PRESSO, ma ha anche altri significati, come in questo caso, potrebbe essere NON SEI PRESSO FACEBOOK, ma noi tradurremo in italiano SEI SU FACEBOOK. Si dice BAI FACEBOOK. Poi Lena dice DAS IST MAIN NAME BAI FACEBOOK. QUESTO E' IL MIO NOME SU FACEBOOK. Also, MAI LENA ZWAITAUSEND. ZWAITAUSEND DUE MILA. Bene, spero che piano piano tu sia riuscito a seguire tutto, hai imparato delle parole nuove, hai scoperto gli aggettivi possessivi, hai visto alcune preposizioni. Come ti dicevo, adesso ti lascio qui sopra, lo trovi nell'info box, ma te lo metto anche adesso, il link alla lezione completa A1 che avevo fatto che è praticamente simile, sempre una lettera, un testo di presentazione, quindi puoi andare a ricercare le cose che abbiamo visto oggi e anche a imparare delle cose nuove. Mi raccomando non perdere la prossima lezione, la lezione 5, perché faremo degli esercizi guidati insieme per ripassare quanto ho preso in queste prime 5 lezioni del corso base. Intanto, buona giornata e bis bald!